Eccoci, questa è un'altra casa, 224 mila dollari, 1770, qua c'era uno che mi ha preso giù il nome, di questo c'è bello che c'è tutto il pavimento in parquet, però simili parquet, non lo so com'è, non mi sembrava parquet vero vero, mi sembrava più una copertura. Comunque bello, grande, 1770 del 98, il problema è il vicinato, c'era un sacco di scimmie, c'era un sacco di macchine rotte, infatti avrei detto bella, però non lo so, non mi ispira il vicinato, quindi la metterò nelle scartate. Questa e quell'altra che viene dopo, è sempre in quel quartiere lì, un po' scarso, quindi mi puzza. La metterò nelle scartate. Questo sì, c'era anche un parchettino dietro, molto simpa. Poi ce n'erano altre due che, cioè, non sono riuscite a trovarle, troppo lontane, cioè, l'autostrada ci passa sopra, non riesco a entrare nella via. Allora quelle due le ho lasciate, poi erano troppo lontane, per andare al lavoro mi ci vorrei mezz'ora. Come avete potuto notare, le cucine sono sempre arredate, magari il frigorifero non te lo danno, però gli armadietti, il lavandino c'è sempre, e anche i bagni sono sempre arredati. Ecco, questa è da fuori, un'altra, anche questa è sempre nella stessa zona, cucina ce l'ha anche piccola, c'è il pavimento mattonelle, ma non mi è piaciuto molto, cioè, non mi è piaciuto l'ambiente, ci sono delle macchine tutte scassate, poi c'è delle scimmie, poi, non lo so, ho visto un sacco, non so, robe rotte, oh, niente, a molto. Per finire c'è l'ultima, che è bellina, l'ho messa nei miei preferiti, ecco, è questa? Sì, mi sembra. Questa qui, 214.000, del 97, 1437, qui, di culerati. Questo è il salottino, cameretta, questo c'è anche un tipo gazebo fuori, molto bellino, è di mattoni, non è di mattoni. So, sono arrivati, toccare un poccanio, sì, ecco, il resto della ricetta. Patio di legno molto bellino Con il barbecue E poi oltre al patio c'è anche un po' di giardino Basta quindi Queste sono le case per adesso Non so che faccio, la compro, aspetto, non lo so Quella là Nella foresta mi piace, con gli alberi Bagno Mi sono E allora prima di tutto Ciao Ciao